Ci sono rapporti che vanno al di là di una pista, legami che non si fermano ad una moto o ad una serie di giri. Ed è quello che è successo a Vittorio Iannuzzo e Fabrizio Pirovano. Il pilota monzese da poco scomparso ha rappresentato tutto per l'Irpino, un amico e un maestro. Per questo motivo Iannuzzo a Denimburgo e Scozia proverà ad onorare la memoria del Piro. Sì, è stata una settimana molto dura per me, per questa perdita importante che ho avuto. E quindi la mia prossima gara sarà soprattutto alla ricerca di un ottimo risultato da poter dedicare al mio amico Fabrizio che ormai ci ha lasciato e che spero mi guardi dall'assù. Cosa ha rappresentato per te il Piro? Il Pirovano ha rappresentato tutto, è tutto per me. È stata la prima persona che ha creduto in me, è una persona che a meno di 18 anni mi ha voluto nella sua squadra, mi ha dato la possibilità di vincere un titolo, mi ha dato la possibilità di correre ad altissimi livelli ed essere un pilota professionista al 100%, quindi gli devo praticamente tutto. Qual è stato il suo insegnamento più importante? Lui mi ha aperto praticamente la porta di casa sua, mi ha ospitato a casa sua e insieme a lui abbiamo fatto di tutto. Ricordo il più bello che ho con lui è stato sicuramente quando abbiamo vinto il titolo, ma anche, può sembrare assurdo, quando mi sono fatto male, ho avuto un infortunio grave in Inghilterra e lui è rimasto con me in ospedale due settimane, mi ha affiancato tutti i giorni, era accanto a me, non mi ha mai lasciato un minuto e quindi ti posso immaginare quanto questa persona possa essere importante per me.